Il termine giustizia nella Sagra Scrittura ha un significato molto ampio, significa il complesso delle virtù, quindi è usato come sinonimo di santità e in questo senso il Signore proclama beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, cioè di santità. La giustizia rispetta i diritti di ognuno e fa regnare l'onestà, esprime la fede, protegge gli intifese, crea un ordine nella società. Abbiamo vari aspetti della giustizia, abbiamo la giustizia legale, cioè coloro che sono sottomessi all'autorità devono considerare i loro superiori come rappresentanti di Dio, naturalmente con le dovute eccezioni, perché se sono rappresentanti di Dio devono agire secondo il cuore di Dio. Se questo non lo fanno, di nome sono rappresentanti di Dio, ma non di fatto. In vista del bene comune che prevale sul bene particolare, i cittadini sono obbligati a sacrificare una parte dei loro beni e persino a mettere in pericolo la vita in difesa del bene comune. Ciò si può verificare in tempo di guerra. In forza di tale principio abbiamo l'obbligo morale del versamento delle imposte nell'esercizio del diritto di voto della difesa del Paese. Abbiamo la giustizia distributiva. È la vertù che impone ai responsabili di distribuire i beni comuni secondo i meriti e le necessità di tutti. Alla giustizia distributiva si oppone ogni favoritismo, ogni accettazione di raccomandazione, perché sono favoritismo e raccomandazione. Possono essere giuste perché vengono affidate a chi li merita, ma se viene scartato chi merita per darla a chi ha fatto la raccomandazione è un fatto contro la giustizia distributiva. La raccomandazione con le quali concedono i benefici a chi meno li merita costituiscono una vera infrazione della giustizia distributiva. abbiamo la giustizia commutativa. La giustizia commutativa regola i diritti e i doveri dei cittadini tra di loro. In effetti colui che ha ricevuto un prestito, una determinata somma, è obbligato a restituire la medesima somma, naturalmente pagando i giusti interessi che preventivamente sono stati convenuti. Anche i contratti sottostanno alla giustizia commutativa, la quale esige la salvaguardia dei diritti di proprietà, il pagamento dei debiti e l'adempimento delle obbligazioni liberamente contratte. Vediamo un poco la testimonianza di vita di Padre Pio al riguardo. Egli dice la nostra vita deve essere un seguire Gesù nella via del Calvario, partecipando dei suoi dolori. Ma in questa salita noi non siamo soli, siamo tutti cirenei, cioè impegnati alla salvezza dei fratelli. E quindi allora la sofferenza, il sacrificio che noi compiamo è sempre generalizzato. Padre Pio scrive a Rafferina Cerasa, Gesù è sempre con voi, anche allorché a voi sembra di non sentirlo, ma a voi è tanto vicino quanto lo è nelle lotte spirituali. Egli è sempre là, vicino a voi, animandovi a sostenere coraggiosamente la battaglia. Egli è là a parare i colpi del nemico perché non restiate offesa. Questo è il pensiero di Padre Pio che infonde coraggio a chi si trova sotto il peso della sofferenza e in effetti dice non ti preoccupare, vicino a te c'è Gesù e con Gesù ci sono anch'io a soffrire con te.